Siamo a Research to Business, il salone internazionale dedicato alla ricerca industriale che si tiene a Bologna nella sua settima edizione, voluto dalla regione Emilia-Romagna ed è organizzato da Aster in collaborazione con SMAO e con Bologna Fiere. Il Novetain Match è un luogo dove ricercatori e imprese si incontrano, sono organizzati dei meeting della durata di 30 minuti e durante questi meeting i ricercatori e le imprese a livello internazionale hanno occasione di scambiarsi non solo il biglietto da visita ma di raccontarsi chi sono, di raccontare che cosa si aspettano dai ricercatori o dalle imprese e che cosa mettono a disposizione. Oggi ho avuto l'opportunità di incontrare un importante centro di ricerca con il quale si è parlato di un'opportunità che ci può essere a livello di progettazione europea e si è concordato che si cercherà di costruire una sorta di partnership e quindi un consorzio per poter partecipare a queste opportunità che la comunità europea ci mette a disposizione. Ho avuto dei contatti molto interessanti, abbiamo scoperto che ci sono delle realtà che si occupano di cose vicine a quelle che è il nostro core business e soprattutto quello che è l'esito finale di questi 20 minuti di face to face di contatto è quello sicuramente di avere un contatto, un riferimento, un volto dietro a un biglietto da visita che ti permette al momento giusto, magari anche per sei mesi, tra un anno o domani, ti permette di poter avere subito un feedback e di iniziare magari una partnership, una collaborazione e un nuovo progetto insieme. Qui a Bologna nell'area Innovate & Match si sono susseguiti, si stanno susseguendo più di 600 incontri tra ricercatori e imprese che provengono non solo dall'Italia ma anche dal Canada, dall'Austria, dalla Cina, dalla Moldavia, dalla Repubblica Ceca. Non è la prima volta che partecipiamo a Innovate & Match, abbiamo partecipato quest'oggi e anche ieri a degli appuntamenti con aziende sia italiane che internazionali. Ci sono diverse realtà veramente valide e con idee piuttosto innovative direi. Interprese Europe Network è la più grande rete europea creata dalla Commissione Europea per supportare le piccole e medie imprese per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti per la ricerca, per supportare le imprese nella ricerca di partner tecnologici e per favorire anche l'ingresso delle imprese in nuovi mercati. È veramente importante avere occasioni pratiche di incontro e di confronto. In tutti i settori delle costruzioni, delle scienze della vita, dell'agroindustria, della meccanica, dell'ICT e del design, abbiamo invitato imprese e ricercatori a dialogare tra loro, avere una prima occasione di incontro. Poi ci auguriamo che successivamente abbiano momenti per approfondire, per far nascere dei veri e propri accordi di tipo commerciale, tecnologico o di ricerca. Consiglio alle aziende di partecipare e di organizzare l'evento nel modo tale che possa essere il più efficiente possibile, quindi prepararsi delle breve presentazioni, del materiale informativo e considerare che in 5 minuti uno deve presentare la propria esperienza. Grazie a tutti!